Eccoci qua ragazzi buongiorno per questa nuova ricetta. Allora oggi cosa facciamo? Oggi facciamo la frittata vegana, una di quelle ricette che in molti mi hanno chiesto. Quali sono gli ingredienti che ci servono. Allora come vedete abbiamo scelto la farina di ceci, sale, pepe nero, l'acqua e poi abbiamo un po' di rosmarino. Iniziamo con questa nuova ricetta. Eccoci qua ragazzi. Allora andiamo a depositare un po' di farina di ceci all'interno di questo contenitore e poi pian piano andiamo a mettere un po' d'acqua per riuscire ad amalgamare. Inseriamo anche il pepe nero e il sale. Abbiamo già creato quella che è la pastella da frullare. Ok abbiamo creato un impasto abbastanza simile a quello dei pancake diciamo che quindi deve essere abbastanza amalgamato. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a mettere un cucchiaino di olio. Con un panno andiamo a ungere la padella in questo modo e la facciamo riscaldare. Allora durante l'impasto dobbiamo valutare se l'impasto è troppo acquoso. In questo caso aggiungeremo un po' di farina. Nel caso invece sia troppo solido e vediamo che ha bisogno di essere un po' più liquido e in quel caso aggiungiamo un po' di acqua. Ok andiamo a mettere un po' di rosmarino all'interno dell'impasto in questa fase qua. Metto un coperto perché essendo comunque abbastanza spessa l'impasto ha bisogno di cuociasi sia sotto che sopra e quindi il coperto ci aiuta a riscaldare anche la parte superiore dell'impasto. Ok sono passati circa 5 minuti. Adesso questo è l'impasto. Andiamo a girare il nostro impasto in questa maniera qua. E ci facciamo fare altri 5 minuti da questo lato. Eccoci qua ragazzi con le nostre frittate di ceci. Quindi frittate vegane. Quindi abbiamo utilizzato la farina di ceci per fare questa. Questi due diciamo che sono a forma di panchetti quindi vanno bene anche come panchetti vegani. Che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato soltanto la farina di ceci, l'acqua e quindi da questo impasto sale e pepe siamo riusciti a fare questi panchetti vegani. Con questo io vi saluto ragazzi, provatela e buon appetito. Ciao!